Ciao a tutti e a tutte, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Lucia e il video di oggi, come vi anticipavo ieri, è un video speciale perché lo dedico a tutti voi. Infatti abbiamo raggiunto la soglia dei 100 iscritti. E per questo, quindi per ringraziarvi, ho deciso di fare questo video speciale in cui vi narro la mia storia di lettrice forte attraverso dieci libri che mi hanno segnato appunto in quanto lettrice. Infatti molto spesso quando mi chiedono come ho cominciato a leggere, come sono diventata una lettrice forte, oppure quanto leggo, oppure ancora quando trovo il tempo per leggere, e a tutte queste domande servirà a rispondere questo video perché attraverso la storia di come io sono diventata una lettrice forte, ripercorrerò appunto tutte le tappe attraverso i libri che ho letto durante la mia vita da lettrice. E sarà sicuramente molto divertente andare a ripescare nei cassetti della memoria, nei libri che avevo perduto o che avevo dimenticato di aver letto, ma sarà anche utile, spero, per voi, per chi state cercando dei libri per determinate categorie di lettori. Piccola precisazione, alcuni libri io li ho letti da piccola, ma non sono esattamente per quella fascia di età, però sono quello che io ho letto e quello che ha determinato me in quanto lettrice forte. Direi che possiamo partire. Allora, come vi stavo dicendo prima, la primissima spinta a leggere me l'ha data la mia mamma, e come proposta di lettura mi aveva dato il topolino. Purtroppo la mia collezione di topolini è andata perduta, però vi lascio qui un'immagine così che possiate capire quanto queste divertentissime avventure Disney abbiano significato per me. Infatti ho dei bellissimi ricordi a proposito di vacanze estive al mare in cui non mancavano mai il topolino e il secchietto alla paletta. Però il mio primo vero libro è stato Piccole donne. Ricordo che me ne regalò una copia la mia mattina di Cresima ed era una copia illustrata che purtroppo ho perduto, ma vi assicuro che l'ho letta talmente tanto che le pagine venivano via e avrò avuto circa una decina d'anni quando mi è stato fatto questo regalo. L'ho letto talmente tanto e mi è piaciuto talmente tanto che poi in prima media quando sono venuti i rappresentanti di case editrici perché all'epoca, così come ora, abitando in un piccolo paese non avevo la possibilità di andare in libreria e né tanto meno nel mio paese c'era la biblioteca. Ricordo di aver ordinato il seguito Piccole donne crescono, anche questo letto e riletto nell'edizione Newton & Compton che purtroppo si è rovinata, però mi dispiaceva poter buttarla e quindi l'ho utilizzata come strumento per fare foto e video su Instagram. Diciamo che però per tutte le scuole medie, almeno fino alla terza media, non ho letto moltissimo, anche perché tra l'altro avevo una passione sfrenata per i cartoni animati. Ricordo che praticamente non vedevo l'ora di finire di fare i compiti per affiontarmi a vedere Bim Bum Bam e tutti i cartoni animati giapponesi il pomeriggio facendo merenda con la mia sorellina. Fatto sta che comunque in terza media arrivò una nuova professoressa di lettere che andò a sostituire l'ora di narrativa con una sorta di club di lettura in cui ha coinvolto tutta la classe, noi eravamo circa 15, chiedendoci di portare ognuno di noi un libro che avevamo in casa. Come si può immaginare, all'epoca nelle case non c'erano tantissimi libri per ragazzi, quindi mi sono trovata a leggere anche libri per adulti come Mastro Don Gesualdo e i Malavoglia che purtroppo non ho apprezzato, anche perché comunque a 13-14 anni il linguaggio di verga è piuttosto complesso da poter essere digerito. Quindi ho deciso qualche anno fa di rileggere questi libri e adesso comunque comincio a capirne con quel vero significato. Comunque in questa circostanza però ci fu un libro che mi colpì particolarmente ed è Il diario di Anna Frank. Ovviamente non vi sto qui a parlare della trama perché penso che ognuno di noi conosca benissimo la trama. Vi dirò semplicemente quello che mi colpì all'epoca e fu sicuramente il fatto che Anna fosse una ragazzina vivace e estremamente intelligente tanto da riuscire comunque con un certo intuito ad andare a carpire le vere personalità delle persone che abitavano l'alloggio segreto. L'altra cosa che invece mi colpì profondamente è il fatto che nonostante comunque quello che stava succedendo al di fuori di quell'appartamento riuscisse comunque a nutrire sogni e speranze per il futuro. Con il passaggio però alle scuole superiori il ritmo di lettura è completamente cambiato perché se le elementari e le medie le ho frequentate nel paese per quanto riguarda le superiori purtroppo sono dovuta andare in città e quindi dovevo svegliarmi presto la mattina e tornare poi nel primo pomeriggio intorno alle 3. e quindi tra le lezioni a scuola, i compiti e il viaggio arrivavo la sera che ero letteralmente estremata e quindi mi era letteralmente impossibile poter toccare il libro da leggere. Infatti in quel periodo leggevo solo ed esclusivamente nel periodo estivo. Infatti mi ricordo che appena iniziavano le vacanze estive i miei mi portavano in quello che era un ipermercato che vendeva anche i libri e mi davano la possibilità di scegliere 2 o 3 libri che potessero poi farmi compagnia durante l'anno. Tra questi spesso mi ritrovavo a scegliere dei thriller infatti ancora tuttora se mi capita un buon thriller lo leggo volentieri. Però è capitato anche di leggere qualche romanzo d'amore anche perché, confesso, all'epoca seguivo assiduamente una fiction della Rai che si chiama Incantesimo. Ricordo che le prime quattro stagioni lo seguite in modo veramente appassionato poi però purtroppo un po' per le trame un po' perché appunto dovendo viaggiare per andare a scuola non avevo modo di vederle e le ho quindi accantonate. Però questo è stato anche il periodo in cui mio padre scoperte due collane che uscivano con il Corriere della Sera e la Repubblica una era i grandi classici, l'altra i classici del Novecento ha cominciato quindi a portare a casa questi libri e in questo modo quindi ho scoperto i classici che ancora tuttora sono tra i miei generi letterari preferiti. Tra questi quello che mi ha fatto letteralmente impazzire è stato il Conte di Monte Cristo che appunto avevo preso con il Corriere della Sera. Mi sono innamorata alla prima pagina di questo grande capolavoro della letteratura francese e ritengo che questo sia il libro classico per eccellenza un libro talmente perfetto ed emozionante che io non ho mai incontrato altro libro come questo e anche il suo protagonista Edmond Dantes alias Conte di Monte Cristo è talmente straordinario che non ho mai più incontrato un personaggio come lui. Altro grande classico che ho recuperato grazie al Corriere della Sera è Frankenstein di Mary Shelley un romanzo estremamente moderno in cui viene descritta una società basata solo ed esclusivamente sull'apparenza e in cui la creatura creata dal dottor Frankenstein non viene presa in considerazione per quello che è realmente ma soltanto per il suo aspetto infatti la creatura è un personaggio che è fortemente bisognoso di affetto e di amore ma non lo riesce a ricevere proprio perché è diverso ricordo che la mia 17enne l'ha amato alla follia anche perché io al liceo purtroppo ero considerata un po' strana e quindi venivo un po' isolata dalle altre compagne di classe e per questo ho molto empatizzato con il mostro. Ultimo, ma non per importanza classico che sono riuscita a recuperare questa volta con la collana I classici del Novecento della Biblioteca della Repubblica è Gli Indifferenti di Alberto Moravia un romanzo che racconta la storia infelice di una famiglia in cui tutti i protagonisti sono alla ricerca disperata dell'amore senza però capire come si ama e come si deve essere riamati quindi diciamo che molto spesso non si riesce ad empatizzare con loro perché sono intrappolati nella loro indifferenza oppure nella loro stupidità e nel loro egoismo oppure perché sono disperati Dopo la maturità ovviamente mi sono iscritta all'università ma come spesso accade purtroppo l'università poco si concilia con la lettura e quindi in quel periodo ho letto veramente pochissimo soltanto due sono i libri che posso segnalare innanzitutto 1984 di George Orwell si tratta del mio primo romanzo distopico ed è un romanzo in cui il protagonista Wilson si muove in una società in cui c'è il grande fratello cioè la società lo Stato ti controlla 24 ore su 24 7 giorni su 7 dove il pensiero libero non esiste perché devi pensare esattamente come vuole lo Stato dove non esiste l'amore perché esiste soltanto la riproduzione e dove le uniche cose per cui vale la pena vivere sono la patria lo Stato e la guerra almeno è quello che vuole far crederci lo Stato sono rimasta veramente affascinata da tutto questo universo che praticamente è identico a tutti i totalitarismi e quello che mi ha inquietato di più soprattutto perché all'epoca studiando scienze della comunicazione quindi ero praticamente presissima ricordo che è stato il fatto che soltanto alcune parole potevano essere utilizzate altre invece erano totalmente vietate e questo andava quindi a manipolare anche la facoltà di pensiero non solo e poi si andava anche a distorcere gli eventi storici quindi cosa che tra l'altro Hitler ha fatto realmente l'altro grande libro che ho letto nel periodo universitario e che devo ringraziare Fazio per avermelo fatto conoscere è Gomorra di Roberto Saviano che tra l'altro poi è diventato il mio autore preferito in questo libro diciamo che Saviano non fa sconti alla criminalità organizzata campana dove tra l'altro si narrano i fatti della terra dei fuochi che ancora tutt'oggi comunque ha portato tanti danni alle persone della campagna almeno di quella parte e sicuramente ci sono anche purtroppo personaggi che hanno cercato di combattere contro la criminalità organizzata ma purtroppo sono stati sconvitti come l'esempio di Don Diana di cui purtroppo ci sono come testimoni soltanto i pentiti che sono ancora tuttora vivendi in questo libro Saviano per fare nome e cognomi purtroppo è finito sotto scorta terminato il periodo dell'università con la laurea purtroppo è cominciato per me un periodo di totale assenza dalla lettura leggevo veramente pochissimo poche cose così proprio fugaci fino a quando poi dopo aver fatto la stagione nel 2018 mi è tornata la voglia di iniziare di nuovo a leggere e praticamente girando un po' su Pinterest ho trovato una challenge di lettura una reading challenge di quelle che comunque ancora tuttora girano con diversi tipi di letture così in modo tale da leggere più generi differenti ed è proprio grazie a questa challenge che ho scoperto Murakami infatti senza conoscere né l'autore né di che cosa parlava mi sono imbarcata nella lettura di questo bel tomone che è l'uccello che girava le viti del mondo diventato uno dei miei Murakami preferiti si tratta di un romanzo onirico che viaggia sempre in bilico tra la realtà e i sogni anche se per la maggior parte del tempo si concentra nell'analizzare i pensieri dei vari personaggi questo romanzo parte con delle tinte molto gialle perché parte con la scomparsa di un gatto ed una serie di telefonate misteriose e per poi passare a tutta una serie di personaggi stramboidi fino ad arrivare al finale altrettanto strambo ma amaro e nel mezzo poi si aprono tutta una serie di parentesi tra cui quella che mi ha colpito maggiormente è quella che ti porta indietro nel tempo fino alla seconda guerra mondiale dopo questa esperienza positivissima di questa reading challenge ho voluto replicare con la cactus reading challenge di Julie De Mar e anche questa volta ho scoperto tra l'altro che tra l'altro avevo già in casa furore di John Steinbeck anche questo preso con La Repubblica una bellissima narrazione dell'odissea di una famiglia americana e Joyed che praticamente dall'Oklahoma emigra e emigra verso la California in cerca di lavoro e di prosperità in questo libro vengono quindi descritte in stile tipicamente americano la dignità e la disperazione dei condadini okis appunto dell'Oklahoma che dall'oggi al domani si sono ritrovati senza terra perché pignorate dalle banche e soprattutto perché non hanno potuto far fronte ai debiti contratti per via di una di un cambiamento climatico che era sopraggiunto e che aveva fatto sì che le terre si seccassero è una bellissima narrazione che tra l'altro ho scoperto essere frutto di un reportage che doveva essere pubblicato sui giornali americani da cui poi Steinberg ci ha tratto questo bellissimo romanzo con cui tra l'altro ha vinto anche il premio Nobel ed è talmente mi è piaciuto talmente tanto che sinceramente io lo paragono ai miserabili soltanto che si tratta comunque di una versione novecentesca veniamo ora al periodo buio del 2020 come sappiamo tutti siamo stati costretti a rimanere in casa e in quel periodo ho ritrovato la passione per un vecchio anime giapponese che avevo avuto qualche anno prima e sto parlando di Lady Oscar una volta rivisto l'anime mi è venuta la curiosità di passare anche al manga e anche perché tra l'altro io non leggevo un fumetto dai tempi delle elementari e ho sempre distrattato i manga perché li ho considerati come una sorta di letteratura d'evasione un prodotto mordi e fuggi così da leggere in periodi di relax ecco invece con questo con le rosse di Versailles di Ryoko Ikeda bisogna ascoltarsi completamente questo tipo di atmosfere perché si tratta di un vero e proprio romanzo storico a fumetti la storia ovviamente è praticamente identica a quello dell'anime soltanto che magari cambiano alcuni episodi oltre comunque all'ambientazione tipicamente settecentesca tra cui tra l'altro mi è venuta voglia come sapete benissimo di leggere tutto ciò che riguarda questo periodo ma sicuramente quello che mi ha colpito maggiormente è il messaggio profondamente attuale e potentissimo che l'Aikeda ha voluto lanciare negli anni settanta che è un messaggio fortemente femminista perché ha cercato di dare alle ragazze giapponesi una prospettiva diversa di quella di una donna che debba essere per forza moglie e madre e lo ha fatto creando questo bellissimo personaggio che è Oscar François de Jarget che fin dai tratti come potete vedere è molto più femminile rispetto a quella rappresentata nell'anime ma è anche molto più ironica infatti molto spesso si prende gioco degli uomini che sono ai suoi comandi e sicuramente questa è una cosa che mi ha colpito molto perché sono abituata a considerare Oscar come un personaggio cupo e silenzioso e invece qui è di tutta altra specie ecco bene questa è stata più o meno diciamo così la mia carriera da grande elettrice che mi ha spinto tra l'altro in un assolato pomeriggio di agosto ad aprire la mia pagina Instagram e da qui quindi è cominciata tutta la mia epopea diciamo così tra virgolette di di personaggio social ecco detto questo spero che con questo video sono riuscita a farmi conoscere come grande elettrice come una elettrice forte e che vi abbia fatto capire come sia nato il mio grande amore per la lettura e soprattutto come questi libri questi dieci libri che sono soltanto una parte di quelli che ho letto nella mia grande vita da lettrice mi abbiano accompagnato e fatto evolvere in quanto appunto lettrice sono curiosa di sapere nei commenti se avete qualcuno di questi avete letto qualcuno di questi libri che hanno accompagnato me e in quale periodo della vostra vita l'avete letto io vi saluto se siete arrivati fino qui vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao